Benvenuti amici di Momenti di Toro, benvenuti a questo nuovo video sulla partita dei Granata, il derby Granata contro la Serenitana. Ci siamo presi qualche ora in più per riflettere, analizzare su una partita che in realtà è un già visto, è un film già visto. Il Torino regala il gol all'inizio come era già successo contro il Napoli e fatica praticamente, piega un tempo per provare a prendere le misure a una squadra che è comunque organizzata ma che non ha senz'altro impressionato e poi trova il pareggio grazie sostanzialmente a una delle pochissime giocate pericolose dalle parti di Ochoa, il bel assist di Miranciu che è il gol di San Abel, ormai una sentenza in questo 2023. La partita sostanzialmente è racchiudibile in appena questi due lampi, c'è stato poi il palo di Candreva, il legno colpito da Ghiomber, una quasi autorete e poi si è visto pochissimo in una classica partita sostanzialmente di fine campionato. Tra una squadra, la Serenitana, che ancora salva non è, ma che ha tutte le credenziali per raggiungere l'obiettivo con largo anticipo e una che il Torino invece gli obiettivi sembrano non averne più. Se è possibile questo pareggio ha chiuso, ha sancito la fine delle ultime speranze di agganciare il treno del settimo posto, anche se in realtà i risultati sono favorevoli. La sconfitta della Juve, la sconfitta dell'Udinese, Fiorentina e Atalanta devono ancora giocare, il pareggio di Bologna contro il Milan, il settimo posto è ancora teoricamente piuttosto vicino, comunque non troppo lontano, ma la sensazione è che la squadra non creda nei propri mezzi e nella possibilità di raggiungere e di fare meglio di formazioni che sono più attrezzate sulla carta. Non solo sulla carta come l'Atalanta o la stessa Juventus, ma che magari come Bologna sono leggermente superiori sul piano tecnico, ma hanno probabilmente più autostima, hanno più entusiasmo anche a livello ambientale. Per questo la partita contro la Serenitana va sostanzialmente in secondo piano rispetto alle dichiarazioni di Iulice del pre e del post partita. Diciamo che come premessa noi siamo d'accordo con l'allenatore croato che ieri alla fine della partita ha espresso la delusione e l'impianto per il fatto di non essere, di avere accolto, di vedere la squadra ricevere dei fischi, degli insulti al termine magari sicuramente non esaltante sul piano tecnico, e che forse ha visto la squadra non credere più di tanto alla possibilità di vincere, ma che riflette sostanzialmente le qualità e il valore del Toro stesso. Quindi diciamo che se all'inizio, se nel pre partita Iulice aveva già fatto intuire sostanzialmente che ci fosse un clima un po' da ultimo giorno di scuola, o comunque da vacanze in arrivo, dopo la partita è una sostanziale contraddizione perché si lamenta magari anche dell'atteggiamento del pubblico. Iulice è un allenatore schietto, è una persona sincera, anche se a volte magari deve mediare un po' rispetto al suo carattere particolarmente burrascoso, quando però magari dice che la gente sa che il Toro o dal Toro si pertende di più, bisogna anche analizzare la realtà e dire che la panchina di ieri era praticamente ai minimi termini, insomma a livello di qualità, gli unici giocatori messi in campo da Iulice sono stati quelli entrati nel finale, Caramò, Pellegri è entrato proprio in ultimi minuti, Vlasic al posto di Ricci infortunato e poca roba, poi c'erano i giovani, Inghessan, Gineitis, dopo, bisogna fare legna con quello che c'è ed è evidente che la classifica sostanzialmente del Torino è questa, è il rischio che magari possa peggiorare, visto che il Monza dopo la vittoria di San Siro è ormai lì, un tredicesimo, un dodicesimo posto, il Sassuolo ha vinto contro la Juve, insomma ed è abbastanza, e ha sopravvanzato appunto il Toro in classifica, ci si chiede se un tredicesimo posto, un dodicesimo posto, possa catalogare come negativa la stagione del Toro, sì e no, nel senso che i valori appunto sono questi, ed è quindi chiaro che Juric quando con un pizzico di delusione, un pizzico di autocritica anche sostiene non aver premuto, aver fatto abbastanza pressione sulla società per il costevole organico migliore, in parte mentre sapendo di mentire, perché sa che Cairo comunque ha fatto sforzi economici importanti, in particolare per Ricci, però molti giocatori sono arrivati i Miranciuc in prestito, difficilmente verrà riscattato, la situazione di Vlasic sappiamo come sia arrivato, insomma quindi gli investimenti sono stati sostanzialmente minimi, a parte qualche eccezione, a parte Scurs comunque è arrivato dopo l'eccezione di Bremer, quindi insomma Juric ha capito magari che il suo futuro potrebbe non essere a Torino, o magari no, insomma non si sa ancora, però notiamo qualche piccola contraddizione tra le dichiarazioni del pre e quelli del post partita, sicuramente l'allenatore non sta riuscendo a stimolare la squadra per finire il campionato a testa alta, e offendo prestazioni all'altezza, ecco perché le ultime gare, insomma del Torino, che ha una media punti piuttosto bassa negli ultimi due mesi, sono quelle di una squadra che ha tirato i remi in barca, ovviamente consapevole di non poter arrivare per limiti più o meno chiari d'organico al settimo e ottavo posto, e consapevole magari che un decimo o un tredicesimo posto cambierebbero poco, una squadra a fine ciclo probabilmente sì, l'allenatore ha un altro anno di contratto come sappiamo, ma dopo due sessioni di mercato piuttosto tribolate potrebbe anche cercare fortune altrove, sicuramente le proposte non gli mancheranno, il Dottor Tone viene da quattro campionati più che onorevoli, i due a guida del Verona, i due con il Torino, nei quali non ha magari avuto qualche picco, in generale una discreta mediocrità, ma ripetiamo, bisogna valutare tutto in base alla qualità dell'organico, scendendo alla prestazione di ieri, nel dettaglio della prestazione di ieri, c'è ovviamente pochissimo da salvare, un buongiorno al posto di Scurse si è rivelato migliore di quando fa il braccietto, ma anche lì è uscito il ritardo sul gol, ed è sinceramente piuttosto colpevole, Singo è stato utile di un'altra prova piuttosto sconcertante, la situazione con Lazzaro è stata fin tardiva, Voivoda anche lui pare precipitato in un buco nero di rendimento, Ricci si è fatto male, lei comunque prima di infortunarsi aveva perso il pallone, che aveva ingenuamente, che aveva dato origine al gol della Solernitana, i tre quartisti sono limitati al famoso compitino, Miranciuk se non fosse stato per l'Astit, per Sanabela sarebbe stato largamente insufficiente, Radonich probabilmente è l'unica nota positiva dell'ultimo mese e mezzo, si sta battendo rispetto al giocatore svogliato, rispetto al giocatore visto nel derby, insomma che era stato tolto a bel disperazione, se non altro ha imparato la lezione, fa anche qualcosa di buono, qualche giocata, fa vedere la sua qualità, ma alla fine non quaglia mai, insomma sostanzialmente l'unico giocatore da salvare veramente è Sanabria, piuttosto negativo, più che negativo nel primo tempo, in cui ha passato la gara con la Roma, non avendo mai ricevuto un pallone, però insomma reattivo nell'unica vera occasione che ha avuto per il nono gol stagionale, insomma, il paraguayano è vicino alla doppia cifra e sinceramente per la stagione del Torino avere comunque un attaccante in doppia cifra è un ottimo risultato e magari può far pensare che se è un attaccante da meno di 10 gol può avere rimpianti per non avere lottato per traguardi europei, ma diciamo che 10 gol per Sanabria presentano un bottino superiore alle aspettative e che comunque il Cetramanti deve essere fornito di munizioni e i trequattisti del Torino quest'anno al pull top hanno brillato per discontinuità. La classifica è quella che è, ci si chiede se magari squadre come il Bologna, la Fiorentina sì, la Juventus sì, l'Atalanta sì, ci si chiede se squadre come il Bologna, come il Monza che è lì, siano tecnicamente superiori a Torino. Probabilmente no, il Bologna però dopo anni di stagioni anonime come quelle del Toro ha imbloccato l'annata giusta, un allenatore che ha impiegato comunque un po' di tempo per entrare in sintonia con piazza e squadra e adesso è idolatrato e fa partite buone, anche se quella colmina sicuramente non è stata certa la miglior gara del Bologna, ma comunque rientriamo tutto nel discorso iniziale, in un discorso di mood, di ambiente, in questo momento a Bologna tutto quello che succede viene raccolta positivamente, a Torino un punto anche con la Serenitana, ma persino se fosse arrivato forse un parigio con la Roma sarebbe stato accolto storcendo la bocca. È vero che il Toro ha un altro passato, un passato glorioso, ma la realtà è questa e gli investimenti sono quelli che sono, quindi il nostro invito è sinceramente quello di non sparare sui giocatori, non sparare sull'allenatore che a livello di risultati sta ottenendo il massimo, a livello di comunicazione deve migliorare, ma ripetiamo, il contesto è molto particolare e ci sono realtà che stanno anche peggiori, stanno vivendo una situazione peggiore di quella del Torino, quindi non diciamo di accontentarsi di questa mediocrità, ma abbiamo vissuto anni peggiori, serie B di lotte per la salvezza, insomma, quindi la realtà è questa e non si può neanche pretendere molto di più se la programmazione societaria è quella che è. Per il finale di stagione, visto il calendario, non c'è da attendersi tantissimo, le prossime partite non promettono nulla di buono, insomma, ci sono da affrontare squadre come Lazio, come Atalanta, come la Fiorentina, insomma, tutte squadre in lotta, in corso per un obiettivo, l'ultima giurata sarà con l'Inter, il Verona sarà in lotta per la salvezza, lo Spezia sarà in lotta per la salvezza, il Monza potrebbe giocarsi un sorpasso, insomma, il calendario non è incoraggiante e quindi, insomma, non vorremmo essere pessimisti, ma non crediamo che la classifica del Toro possa migliorare al limite, magari, il rischio concreto di perdere qualche altra posizione c'è, ma per i vedanti di fine stagione ci sarà, c'è tempo, intanto mandiamo in archivio un'ennesima partita deludente, ma più che altro rassegnata da parte dei giocatori del Torino, che si avviano a un finale privo di obiettivi e piuttosto malinconico, la speranza è che si possa, se non altro, iniziare la programmazione per la prossima stagione, che dovrà partire comunque in primis dalla scelta dell'allenatore, che a quanto ci risulta potrebbe non essere Iuri, ci abbiamo detto nelle settimane scorse di qualche contatto con Paolo Zanetti, i contatti ci sono sicuramente stati, ma ancora non c'è nulla di concreto, e a tutti gli effetti oggi, Ive Iuri c'è l'allenatore del Torino con un altro anno di contratto. Ci aggiorniamo al termine della prossima giornata di campionato e restate con i video dei fuoricampo e un ringraziamento per questo video di Momenti di Toro.